Rocco Scotellaro, l'esempio di un mezzogiorno attivo, è il tema del seminario di studi organizzato giovedì pomeriggio nella sede dell'Open Space APT in Piazza Vittorio Veneto a Matera per i cent'anni della nascita del poeta e scrittore lucano, nell'ambito delle iniziative promosse da Regione Basilicata e organizzate dall'APT con il patrocinio del Comune di Tricarico e della Fondazione Matera Basilicata 2019. Un seminario organizzato per capovolgere l'idea che tradizionalmente si ha in relazione a figure come Scotellaro e Carlo Levi, inquadrate nell'ambito di un mezzogiorno immobile. Rocco Scotellaro, insieme ad altri meridionalisti, attraverso il suo attivismo, ha contribuito certamente a cambiare il mezzogiorno sia dal punto di vista culturale, sia da quello politico e sia dal punto di vista sociale. Rocco Scotellaro era tante cose, è stato sindaco, poi è stato scrittore, è stato poeta, saggista, militante politico, io tenterò un po' di parlare di questi diversi aspetti. Quello che colpisce, oggi ne parlerò, è davvero l'attacco di tutta la stampa comunista a Scotellaro, perché secondo loro, ma io dico anche la migliore critica comunista, quindi anche i Francofortini, allora gli Asorrosa, è come se rimproverano a Scotellaro di non credere abbastanza nella storia. La sordità comunista a una figura come Scotellaro è una cosa che un poco mi imbarazza ancora oggi. Intervenire oggi sulla realtà è paradossalmente più complesso di quando intervenne Rocco Scotellaro, benché lui abbia pagato, fino anche fisicamente, con la morte, un impegno totale, fisico, corporale, che lo ha portato anche a stare spesso fuori dall'opera, pur di stare tra la gente, di stare tra i suoi concittadini. Personalmente per me il più grande insegnamento di Scotellaro è proprio questo, mettersi in gioco con il corpo. Il corpo di Scotellaro è il grande testamento che mi arriva come intellettuale.